Siamo qua nel laboratorio palestra N2 ad Iglesia, spazio che dovrà diventare un grande laboratorio work in progress di artisti residenti che poi diventeranno artisti in permanenza. Questo è il mio lavoro dove ci sono un movimento che si muove con il movimento e lo sguardo di chi si muove all'interno del laboratorio N2. Dall'altro lato invece c'è un paesaggio un po' nevrotico a dire il vero di un artista capoterrese che si chiama Francesco Cogoni. Questa immagino sia capoterra, si legge l'aria inquinata di Sarroc e qua si vede l'uomo petrolizzato che è il tipico residente della zona di Sarroc e Capoterra, molto contaminato dentro, molto petrolio. Barbara Ardau, Tavorat Moghild che è un esperimento collettivo e connettivo tra artisti. La testimonianza è tutto quello che sta succedendo all'interno di questo spazio. davanti al lavoro di Rossana Corti, altra artista, residente, un lavoro molto magico, molto fiabbesco, ma non fanciullisco. L'arte non è mai fanciullista, è sempre matura. E qua è il gigante di Monteframa Jazz, direttamente da New York, pure lì, da Manhattan. È molto da artista, sta a significare che questa nuova artistica, mi sto rendendo conto che l'artista sparisce, no? Diventa invisibile. Diventa invisibile, non conta più l'artista. È ormai un lavoro molto conosciuto dal punto di vista mediatico perché è stato molto discusso sul quotidiano regionale L'Unione Sarda per questi volti che qualcuno, lei prima ci raccontava, etichetta come dei volti un po' siliconici rifatti. Quindi si tratta di lavori un po' di lorencia. Osserva il tipico maschio isolano che con stupore, in maniera un po' concupiscente, osserva le donne rifatti. Qua c'è un altro lavoro che ci rimanda all'origine, sempre di guardare andato, ed è l'origine del nostro mondo. Siamo nati tutti da qua dentro e da qua dentro usciamo. Se vuoi, puoi anche entrare, verificare, per riuscire. Un bel feedback della memoria. E qua c'è la storia dell'info e di quello che succede, che di solito non è. E qua non commentiamo, le osserviamo. Grazie.